Appartiene alla famiglia botanica delle ombrellifere, un ortaggio dalla storia millenaria, assai diffuso nel bacino del Mediterraneo e non solo, e notoriamente dotato di proprietà antiossidanti, depurative, digestive e perfino endocrine. È il finocchio il topic di questa nuova puntata del Gusto della Salute. Il nome scientifico del finocchio è Feniculum vulgare dulce. Come già dicevo prima, è un ortaggio che appartiene alla famiglia delle apiace o ombrellifere, quindi parente stretto del prezzemolo, del sedano, della carota, piante che devono il loro nome alla loro infiorescenza classicamente a forma di ombrella. Accennavo anche prima al fatto che il finocchio è un ortaggio, è una pianta assai diffusa nel bacino del Mediterraneo e l'Italia, in ragione del suo clima, rappresenta l'area territoriale nella quale il finocchio cresce meglio. Il finocchio ha bisogno di tanta luce diurna per poter crescere adeguatamente, teme le temperature troppo calde, ma teme anche il freddo gelido, quindi diciamo che temperature al di sopra dei 30 gradi e al di sotto dei 7 gradi risultano essere piuttosto dannose per un'adeguata crescita della pianta, tant'è che appunto relativamente alle coltivazioni autunnali appunto del finocchio si preferisce realizzare la raccolta del finocchio stesso prima appunto delle gelate invernali. La pianta del finocchio produce alla sua base un grumolo bianco che poi è proprio la parte della pianta che interessa al coltivatore e che interessa anche al consumatore. Questo grumolo bianco può avere forma, dimensioni, caratteristiche diverse a seconda delle tecniche culturali che sono state utilizzate ma anche a seconda della varietà della pianta. C'è chi prima distingueva il finocchio maschio che aveva questo grumolo o che ha questo grumolo più rotonteggiante, più tozzo, anche più voluminoso se vogliamo, dal finocchio femmina che invece ha un grumolo o dovrebbe avere un grumolo più affusolato, più sottile, più piatto. In realtà non ci sono differenze sessuali della pianta ma si tratta esclusivamente di proprietà legate alla varietà specifica della pianta stessa. C'è anche da dire che pure i semi di finocchio sono commestibili per quanto vengano soprattutto utilizzati in fitoterapia ed aggiungo anche che al di là del finocchio volgare cioè del finocchio comune del quale abbiamo parlato fino a questo momento esiste anche un finocchio selvatico, una varietà selvatica, il finocchetto selvatico che cresce nelle campagne ma che talvolta viene anche coltivato negli orti perché ha proprietà come dire officinali in ragione delle sue foglie che sono aromatiche ma che sono anche piuttosto profumate quindi possono essere, possono avere appunto usi officinali sotto questo, sotto diversi aspetti. Come già accennavo in apertura la storia del finocchio è molto antica, c'è chi la fa risalire addirittura alla Piana di Maratona che fu nel 490 avanti Cristo il teatro della epica battaglia fra Atenesi e Persiani, Piana di Maratona nella quale il finocchio, Maraton in lingua greca, cresceva rigoglioso e spontaneo, Piana dalla quale poi, lo ricordo, partì la lunga corsa del mitico Filippide che correndo ininterrottamente per oltre 40 chilometri portò poi ad Atene la notizia appunto della vittoria in quella battaglia. In realtà c'è da dire che già Ippocrate quinto quarto secolo avanti Cristo in una sua opera parlava appunto del finocchio, attribuiva in realtà al finocchio proprietà galattogeniche e quindi consigliava alle puerpere di bere il succo di finocchio in quanto capace di stimolare la produzione di latte materno. Stessa visione fu poi condivisa da altri studiosi nei secoli a venire anche dopo Cristo per cui si cominciò ad attribuire al finocchio anche altre proprietà per esempio la proprietà di stimolare come dire la regolarità dei cicli mestruali oppure ancora grandi proprietà digestive, proprietà diuretiche, proprietà antiacide, proprietà antinausea. C'è chi attribuiva addirittura al finocchio la capacità di essere un potente antidoto contro il veleno di serpenti e poi chi gli attribuiva grandissime proprietà per aumentare l'acuità visiva. Quindi molteplici furono le applicazioni in ambito medico del finocchio stesso. C'è anche da dire che nell'antichità i semi di finocchio venivano utilizzati per aromatizzare e quindi quasi per sofisticare in qualche modo vini non più buoni che poi venivano venduti appunto sofisticati e quindi trasformati ad acquirenti magari poco accorti, magari poco esperti, da cui poi l'invito a non farsi infinocchiare che è arrivato appunto fino ai nostri giorni. Quindi come dire una storia lunga quella del finocchio con le sue tante proprietà che ci sono state tramandate, altre nuove ne sono state in qualche modo individuate, novità e proprietà che insieme a qualche eventuale controindicazione ora ci verranno ancora meglio dettagliate come sempre dalle nostre biologhe nutrizioniste. Quando si parla di finocchio non si può non fare riferimento all'elevato contenuto in acqua ma soprattutto all'elevato contenuto in fibra. 100 grammi di finocchio infatti contengono circa 2,2 grammi di fibra, quindi elevato contenuto in acqua associato a un quantitativo di fibra elevato sono importantissimi per garantire un corretto transito, una corretta funzionalità intestinale. Abbiamo anche un apporto calorico molto basso, 100 grammi di finocchio forniscono circa 31 calorie. Inoltre le proprietà nutrizionali del finocchio sono soprattutto legate a un elevato apporto di vitamine soprattutto vitamina A e C che sono importantissime antiossidanti quindi sono in grado di combattere i radicali liberi e quindi rallentare l'impecchiamento cellulare. Ma non solo abbiamo anche vitamine del gruppo B importantissime per garantire un buon metabolismo e in particolar modo la vitamina B9 che nel finocchio è sotto forma di folati e questa risulta essere importante per garantire un corretto sviluppo del sistema nervoso soprattutto nelle prime fasi di gestazione. Nel finocchio abbiamo anche un importante quantitativo di minerali zinco, selenio, calcio, fosforo, potassio e sodio. Soprattutto il contenuto di calcio e di fosforo risulta essere molto importante in quanto è in grado da solo di soddisfare il fabbisogno giornaliero. Inoltre il selenio insieme anche la vitamina A e C e insieme e anche i flagonoidi presenti nel finocchio svolgono tutti insieme un'importantissima azione antiossidante e proprio per questo motivo il finocchio è un alimento che risulta essere importante nella prevenzione dei tumori e di altre patologie. Per tutte queste ragioni, per tutte e soprattutto proprietà nutrizionali, il finocchio è un alimento che non dobbiamo far mancare sulla tavola nei periodi invernali e non solo. Inoltre il finocchio presenta proprietà depurative, ha proprietà diuretiche, è importantissimo perché è in grado di ridurre il gas intestinale in determinate condizioni come ad esempio in presenza di meteorismo o di colita. Il finocchio contiene all'interno anche numerosi oli essenziali a cui si attribuisce quel caratteristico odore di anice che avvertiamo quando assaporiamo il finocchio. Soprattutto è molto interessante la questione della tisana al finocchio, spesso viene consigliata in dieta dimagranti e anche in sovrappeso in quanto soprattutto se assunta questa bevanda prima del posto risulta essere in grado di ridurre il senso di fame, oltre a essere ovviamente depurative e di genetica. Quindi sicuramente il finocchio è un alimento che non dobbiamo far mancare nella nostra dispensa sia sotto forma di ortaggio che sotto forma di tisana. Non si conoscono delle grandi controindicazioni per quanto riguarda il finocchio. Diciamo che il finocchio, se dobbiamo appunto affrontare gli effetti negativi che può dare, a causa della sua grande quantità di potassio dovrebbe essere evitato soprattutto sotto forma cruda, quindi come insalata, dai soggetti che hanno insufficienza renale, in quanto il rene non faticherebbe ad eliminare il potassio e il potassio si accumulerebbe all'interno del sangue. Altra caratteristica negativa del finocchio deriva principalmente dai suoi semi. Molte volte gli infusi o le tisane vengono utilizzate per calmare gli spasmi addominali, per un'azione diciamo lenitiva sull'intestino. Però si è visto che i semi contengono una sostanza che può essere anche tossica o comunque cancerogena e che è l'estragolo. Questa sostanza se è assunta in grande quantità e quindi se vengono mangiati grandi quantità di semi o comunque vengono assunte molte tisane o molti infusi potrebbe essere appunto dannoso per chi ne fa uso. Altra caratteristica del finocchio è la cross-reattività che può avere nei soggetti che hanno un'allergia al lattice. Si è visto che alcuni soggetti che sono allergici al lattice reagiscono anche ai finocchi che sono degli alimenti che contengono al loro interno delle molecole che appunto possono cross-reagire con le molecole del lattice e così dare sintomatologie appunto allergiche come edemi o prurito e quindi rascio cutanei. Abbiamo sentito le grandi proprietà del finocchio che contiene una serie di sostanze, di prodotti assolutamente benefici per l'uomo, contiene oli essenziali, primo fra tutti l'abbiamo sentito l'anetolo e poi avinoacidi e poi acidi organici e poi flavonoidi, quindi una serie di sostanze davvero utili per l'organismo umano. Possono esserci delle controindicazioni ma come sempre, come sappiamo, queste controindicazioni se adeguatamente conosciute possono comunque consentire un adeguato utilizzo del finocchio stesso che in cucina trova grandi possibilità di essere utilizzato anche in ragione della sua ecletticità o dell'ecletticità con la quale appunto può essere impiegato in piatti diversi. E questa volta in cucina abbiamo una novità, il professor Salvatore Bene dell'Istituto Alberghiero Moccia di Nardò in provincia di Lecce ci dimostrerà le potenzialità culinarie del finocchio. Siamo all'ISS Moccia di Nardò, una scuola alberghiera, insieme ai nostri ragazzi abbiamo realizzato una ricetta molto veloce che rispecchia l'utilizzo del finocchio, un ortaggio importantissimo comunque che fa parte della nostra cultura gastronomica. posso dare via all'esecuzione della ricetta. Qui abbiamo preparato una mirepoix di finocchi allo zafferano e andiamo ad inserire appunto nel nostro piatto principale. Sono dei finocchi tagliati a mirepoix e stufati in padella con dell'olio, sale, pepe e prezzemolo. Inserendo questo ingrediente principale nel nostro piatto lo andremo ad assemblare con delle polpette di pesce azzurro, precisamente dello sgombro. Le polpette che abbiamo realizzato per poter completare il nostro piatto sono state realizzate grazie alla collaborazione dei nostri ragazzi facendo cuocere lo sgombro a vapore, spinandolo, togliendo la lisca centrale, la pelle, la parte nera, quella più indigesta e abbiamo ottenuto poi un impasto aggiungendo del formaggio grattugiato, del pane grattugiato, del sale, del pepe, del prezzemolo e un uovo. Abbiamo impastato come se fosse un classico comunque impasto per polpette e abbiamo realizzato queste polpettine passate nel pan grattato e fritte in olio di arachidi. Ecco qui, andremo a finire la nostra preparazione con della tria, della tria che è della pasta stesa sotto in mente e poi viene fritta. Ecco qui, per ultimare la preparazione ci mettiamo per ricamare anche l'elemento principale della ricetta un ciuffettino di barba di finocchio e questo è il piatto. Grazie a tutti.